Gentili telespettatori, buona giornata. Salvini il pontificatore, pontifix. Di solito il pontificatore viene definito il pontefice massimo, il successore di Pietro, quello che costruisce i ponti, il pontifix, no, in latino pontifix max. Pontefice significa che costruisce i ponti con i fedeli. Mentre qui abbiamo invece un altro fedele, quello dei rosari, delle immagini sacre nelle sue interviste, abbiamo il pontificatore ma lui non deve unire i fedeli, lui deve unire la Sicilia con la Calabria, con il pontifix, il ponte massimo, il ponte dei ponti, quello sullo stretto di Messina. Ecco, lui dice ho già fatto la prima riunione. Ipotesi costi e ipotesi tempi. E i miei omaggi, Salvini, sono, lo dico seriamente, il ponte sullo stretto è uno dei miei sogni che non so se riuscirò a vedere realizzato. Però vi posso dire che se verrà realizzato io andrò in Calabria solo per attraversare il mitico ponte sullo stretto di Messina. Lo faccio proprio volentieri, farò proprio un viaggio per andare sul ponte sullo stretto di Messina. Io tante volte sono stato in Sicilia, ci sono andato in Sicilia decine di volte, o con l'aereo a Cadania, a Paliemmo, oppure sono andato col treno, il treno messo sulla nave, sulla Sicilferri mi ricordo, arriva al treno al porto, si apre la nave davanti, esce il treno, lo rimontano. Quindi l'ho fatto due volte in treno, un sacco di volte con l'aereo, poi sono andato in macchina tante volte, da Arona a Caltanissetta, mi ricordo tipo 22-23 ore, quasi senza sosta. E poi l'ho fatto anche in nave da Genova a Palermo. Mi ricordo cos'era la Grimaldi, la Sicilferri, poi c'era la Tirrenia, la mitica Tirrenia, viaggio sulle poltrone o con cabina, perché a volte la cabina non gera e bisognava stare sulla poltrona a dormire. Ecco, mi ricordo tanti viaggi davvero sulle navi, mi ricordo proprio lo sporgermi e vedere sotto la nave che fendeva l'acqua, a volte si vedevano i delfini. Insomma, c'è un'ipotesi, dicevamo, di costi e tempistiche sul ponte dello stretto, lo dice Salvini, ormai ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, intervenendo in videocollegamento al 66esimo congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d'Italia, dal titolo Confini, linguaggi, progetti e idee per un futuro sostenibile, in corso alla Spezia sulla nave MSC Crociere. Dopo 50 anni di attesa, per il ponte sullo stretto c'è una parola certa. Il ponte sullo stretto potrebbe, conclude, Salvinius, essere un simbolo così come lo è, stato il ponte da altre parti, che dimostri l'efficienza degli ingegneri italiani. Bene, io sono contento se si riuscirà ad avviare la costruzione. Poi, non so quanti anni ci vorranno, non lo so, 5-6 anni? Forse meno, due anni? Beh, altri ponti li hanno fatti a tempo di record. In Cina te lo fanno in una settimana, partono il lunedì, per venerdì alle 5 hanno finito, no? Ci mettono un milione di lavoratori e da lunedì mattina alle 8, al venerdì della stessa settimana, alle 5 hanno già finito il ponte. Un milione di lavoratori e centomila imprese, no? Ecco, non credo che questo sia il caso italiano, non penso proprio che riescono a farlo in una settimana, né in un mese, né in un anno, ma non so, non ho idea di quanto ci voglia per fare il ponte sullo stretto. Certo non è un ponticello, perché i pilastri li devi mettere nell'acqua e non credo che possa essere accampata unica, no? In un'unica accampata. Certo che fare un ponte così, in uno stretto sismico, con delle correnti fortissime, dei venti, è una bella sfida, è una bella sfida, è un'opera gigantesca e monumentale. Pensate quanto cemento, quanto acciaio e quanti lavoratori, quanto pil, quanti disoccupati in meno, si potrebbero avere minimo minimo centomila lavoratori, minimo minimo centomila lavoratori, dando lavoro a tantissima gente, ma tantissima. Poi non ci sono solo quelli che lavorano direttamente, ma c'è tutto un indotto che porta ovviamente a, porta economia, porta denaro, porta soldi. Pertanto ricordo che nell'ultimo governo Berlusconi aveva fatto partire, aveva messo la prima pietra, poi sono arrivati i sinistri e hanno cancellato tutto. Perché? Perché lo voleva fare Berlusconi, allora noi lo dobbiamo cancellare, perché dobbiamo cancellare le tracce dell'ultimo imperatore, un po' come nell'antica Roma. L'imperatore Berlusconi stava facendo il ponte, il ponte Sisto, allora cade e allora dobbiamo cancellare tutto, perché la sinistra non può dire era una cosa buona e giusta, facciamolo, no. A quest'ora avremmo questo ponte già da diverso tempo. Un ponte poi che per passarlo paghi, visto che oggi si paga il traghetto, se no non è che puoi saltare da una parte all'altra, con il ponte si pagherà un pedaggio per passare da una parte all'altra. Pedaggio di qui, pedaggio di lì. Passa anche il treno, attenzione, attenzione, passa anche il treno, quindi voi potete andare in Sicilia, dalla Sicilia potete andare in Calabria in dieci minuti, non aspettare ore il traghetto, il tuo turno sotto il sole in coda, mettere la macchina, scendere, andare sopra, me lo ricordo. per fare l'attraversata tra i 20 minuti e mezz'ora di attraversata, più l'aspettare, poi scendere, non so quante ore, non mi ricordo quante ore se ne vanno. Ecco, pertanto pensate che con un ponte tutto questo sparisce e questo facilita anche il commercio tra l'isola e l'altra parte dell'Italia, quindi è una cosa assolutamente positiva, non capisco realmente chi è contrario a questo ponte, cioè non ha nessun senso, lo dice anche lui che non c'è nessun senso, non c'è nessun senso. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci e grazie a tutti.